Le donne! Le donne! Le donne! Le donne! Io ho detto le donne! Eh no! Non state scherzando! Non lo dite più una parola del genere, sapete? Vogliamo i cuccioli! Io ho detto le gomme! Ma che amore! Tufano gomme! Di sicuro si va! Tufano è grande! L'esperienza ti da! Segui la via! Tufano gomme! La scelta della sicurezza! Circunvalazione esterna! Arzano-Napoli! C'è Napoli Magadine! Ciao a Sandra! Ti volevo chiedere prima di tutto quanto ci tieni tu personalmente a restare a Napoli prima fatta Napoli sul tuo futuro? Se sai tirare le punizioni e se ti senti pronto a questa responsabilità e poi si ha la sensazione se si sta prendendo un ciclo qui a Napoli oppure questo è stato un anno particolare ci sono le basi per vedere un Napoli contenuti qualche anno nelle prossime stagioni? per i successi di Napoli per la prima chiesta era la commissione si? La voglia di restare Napoli Ah la voglia di restare Napoli si si io voglio restare qua sto bene qua mi trovo bene come già l'ho detto dopo non lo so devo parlare con la società e vedere se ci siamo bisogno sto provando a fare il massimo per mostrare che posso giocare qua già ho mostrato molte cose però voglio mostrare ancora di più dopo le punizioni no io mi trovo bene se devo se devo se devo tirare un rigore non posso attirare mi fa paura le punizioni invece da fuori aria si punizioni fuori aria posso farlo dopo dobbiamo vedere con il mister è diverso però io non ho paura mai ho paura l'ho mostrato contro l'Inter ho fatto il cucchiaio no per dire che non ho paura si a volte racconta la mente perchè non l'hai tirato in nazionale ah si non l'ho fatto con la nazionale perchè lo so che Karja che gioca all'Inter gioca con i Marocchi e per questo che non l'ho fatto con la nazionale e non l'ho detto al potere non l'ho detto al potere però però si non l'ho fatto per questo ha fatto il fumo il ciclo il ciclo il Napoli competitivo nelle prossime stagioni no? che sensazione Napoli capace di penso che Napoli è capace di fare la stessa stagione il prossimo anno però adesso dobbiamo vedere le 8 partite che mancano le donne 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 io ho detto le donne e no non state scherzando non lo dite più una parola del genere sapete? vogliamo i cucchioli? io ho detto le gomme tuffano gomme la scelta della sicurezza circunvalazione esterna Arzano Napoli la scelta della sicurezza la scelta della sicurezza